Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. È stata inaugurata sabato pomeriggio presso lo spazio 53 di Piazza Duomo la mostra Era Voghera, composta da 50 ingrandimenti di cartoline originali e inedite della Voghera d'inizio 900. Presenti tra gli altri il sindaco Carlo Barbieri e il collezionista Sergio Fugazza. È un onore per me sviluppare questa mostra perché è basata come immagine, come cultura e costume. Quindi voi troverete tutti i vari tipi dal primo novecento fino agli anni 30-40. E quello che potrebbe essere il costume è notare tutti i bambini che hanno sul cappello, le signore con l'abito molto lungo. e poi abbiamo questo modo di dire che abbiamo le ditte commerciali. Avevamo tre o quattro ditte di capellificio a Voghera. Cito uno importante, capellificio Berti. Qui è una trattoria Lomellina. Lomellina perché era là fuori già la città di Voghera e si andava verso la Lomellina. Parliamo tanto per capirci, no? Cioè quindi è l'ora che l'hanno dedicata alla via, alla Lomellina. Ho tante cartoline. Ma preferite tutte. Questa mi piace moltissimo perché c'è tutto. C'è l'abbigliamento, i colori. La mostra rimarrà aperta al pubblico presso la Galleria Spazio 53 in piazza Duomo 53 a Voghera fino al 30 dicembre 2015.